previsioni per oggi al mattino in pianura nubi sparse con locali piovaschi in montagna nubi irregolari con locali acquazzoni nel pomeriggio in pianura cielo sereno poco nuvoloso in montagna cielo sereno poco nuvoloso previsioni per domani al mattino in pianura cielo sereno poco nuvoloso in montagna cielo sereno poco nuvoloso nel pomeriggio in pianura cielo sereno poco nuvoloso in montagna alternanza di sole e nubi sparse